Ciao a tutti! Una domanda che ci fate in molti è come stampare con un banco a un colore in realtà con più telai e quindi a più colori. Quindi, logicamente, si parla di avere almeno il banco a un colore e due telai che vanno a sovrapporsi e quindi a creare una grafica che noi vogliamo sovrapporre, quindi creare una grafica a due colori o più e poi ci servirà, logicamente, il nostro foglio che può essere, o i nostri fogli, perché se è una serie, logicamente, sono anche più di uno. Può essere di carta, come in questo caso, oppure può essere di plastica, di legno, di metallo. L'importante è che sia un foglio piano. Con queste cose noi possiamo cominciare a capire qual è il metodo corretto per far sì che i telai vadano a registro uno sopra l'altro in maniera perfetta.